Era giusto per... Attenzione! Era giusto per killare, quello è il primo! Sbom! Sbom a ringhio! Sbom! Sbom a ringhio! Madonna mia! Ma mi sento Mario, eh? Non succede, regà! No, non può succedere! Ah, mio Dio, l'ho fatto! L'ho fatto, dimmi di sì! Dimmi che l'ho fatto, dimmi che l'ho fatto! La live deve continuare! Ma che partita ho fatto? Ho killato tutti in endgame! Ragazzi, fermi, faccio la scena! Ragazzi, fermi, faccio la scena! Oh, my God! Ciao, Gabriele! Grazie per la donazione! Che partita ho fatto, regà! La faccia del carriato! Fermi, regà! Ho fatto una partita da mostro! La live continua, però adesso Crax entra in scena e diventa... Diventa Thanos col martello! E vi faccio vedere come ho fatto a killarli tutti alla fine! Me lo faccio vedere, ragazzi! Ve lo faccio vedere! Aspettate! 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 Vi faccio vedere davvero come è venuta la situazione, però mi sa che non ce l'ho più! Un attimo, ragazzi, che controllo! Arrivo, eh! Mi sa che non ce l'ho più! Aspettate! 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 Ragazzi, vi faccio vedere come ho fatto a killare tutti quelli... Vi faccio vedere come ho fatto a killare tutti quelli lì di l'endgame, dalla partita alla fine! Aspettate! Che la forza di torre sia con me! Che la forza di torre sia con me! Quando attacca, però, la canzone, regà! Sì! Sì! Vi faccio vedere quanto, di Thanos! Sì! Ho le gemme del potere! Ho le gemme del potere! Li abbiamo ridi tutti con le pochone! Solo Grax ce l'ho fatto! Solo Grax! Solo Grax! Guanto di Thanos! Più Martello di Torra! Abbiamo spaccato tutti! No! 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 Copyright! 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 Quello! Era l'unico modo per killarli! Un guanto per prenderli tutti! No! Non è il guanto di Nonna Pina, questo!